Sono diverse, è un universo che va distinto, almeno in due o tre pezzi, no? C'è un pezzo, quello diciamo più rumoroso, che io definisco Novax, Sidux, che stanno facendo un'operazione politica, sono fascisti, punto. E lì forse il Ministero degli Interni potrebbe considerare un po' meglio anche l'applicazione della legge Mancino o di altre cose, perché... Dopodiché c'è tutta la fascia, diciamo, più così intellettuale, che descrive la questione della libertà, ma io mi rimetto le parole di caro figlio che hanno detto benissimo la cosa. Poi c'è semplicemente, forse il caso che ha incontrato la signora Viola, di gente che ha paura. Oh, ha paura. Ha paura del... io ne incontro anch'io. E questi qui... io uso questo sistema, paura per paura, io li descrivo un po' quel che mi è capitato di sentire, purtroppo anche un po' di vedere, nella fase acuta di questa cosa, che cosa vuol dire ammalarsi sul serio? Cosa vuol dire quando, cavolo, ti manca il fiato? E cosa vuol dire, purtroppo, per chi c'è capitato, morire in quel modo lì? Io credo che bisogna aiutarli a superare molta gente, a superare una paura, poi quelle domande, poi gratta, gratta, alla fine, c'hanno paura. No, non bisogna avere paura, perbacco. Non bisogna avere paura. E ricordiamoci quando, ragazzi, una volta passava lì il medico e ti diceva, c'è da vaccinarsi. Ma chi è che obiettava? Ma nessuno. Ma la società è diventata più complessa. Forse ci si fida di meno un po' di tutti anche, professore Staglioli. La società se è complicata. Dopodiché a me è capitato, ci sono anche i simpatici, no? Mi è arrivato, giravo per Roma, mi viene incontro uno animosamente, mi fa, ma conosciuto evidentemente, sia chiaro che io non mi vaccino e io non chiamo l'ambulanza. Ciao. E ci siamo alla fine. Professore Staglioli. Datti la pacca sulla spalla. In realtà non c'è...